Dottoressa? Ma siamo sole? E' sicura? Perché non mi fido? Aspetti un secondo prima della seduta Io, dopo questa psicanalisi, ho capito molte cose e secondo me, cioè molte cose hanno capito me Ma qual è il mio affetto stabile? Glielo rimando a lei, è la mia psicanalista Lo dovrebbe sapere Io sto a strippà, sto a strippà I vicini sono giorni che li sento, fanno versi assurdi C'è lei che fa Aiola aiola, capito? Urla, vuole uscire forse Cosa faccio? Chiamo i carabinieri? Dottoressa, io comunque so benissimo, devo dire che Qual è l'affetto stabile nella vita mia? E che ne so, boh Prima di tutto, quelli che non ti chiamano Quando tu li chiami al telefono, che voglio dire cosa stanno facendo Cioè siamo tutti chiusi in casa A parte il pane, la pasta e la pizza Che poi voglio dire aperta parentesi Questo allieveto non si trova Comunque io vedo tutta questa gente coi cani, coi bambini Secondo me nei cani dei bambini sono veri Ma non è che il mio affetto stabile E' la mia ultima ex Che quella so due anni che non si arriva a dar caccio Realmente a Scallonez Dove lo trovi questo allieveto? E' che mi stanno venendo tutte delle macchie qui Non vorrei che fosse il coronavirus Lei cos' dice? E non se la mette? Ma non è che l'affetto stabile nella vita mia è lei Ma lei chi è? Dottoressa? C'ha ancora? E' morta? La vedo pallida dottoressa Ma non è che poi gli faccio un torto alla ex precedente? Che quella è instabile però è della Dina Fa paura